Tu sei Pietro. Leggiamo il testo di riferimento, Matteo capitolo 16 dal versetto 17 al versetto 19. E anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non potranno vincere. Cari amici, il testo che abbiamo letto nel Vangelo secondo Matteo è uno dei più conosciuti e dei più maltrattati di tutta la Bibbia, perché su di esso la chiesa cattolica ha costruito il primato di Pietro, il magistero, il papato e quant'altro. E dopo 500 anni di riforma, cioè dopo lunghi secoli di opposizione biblica fortemente motivata, la chiesa cattolica continua ad aggrapparsi a questo testo per difendere strenuamente le sue posizioni dottrinali, ignorando tutta la critica esegetica e storica fatta da centinaia di studiosi protestanti, assolutamente insensibile ad ogni parere diverso e incapace di ripensamenti. Ma che cosa significano le parole di Gesù a Pietro? Ma non lette a posteriori, e anche tenendo conto di tutti i suoi insegnamenti e di quelli degli apostoli contenuti nel Nuovo Testamento, tenendo conto della realtà storica e dell'apostasia che è stata ed è a un tempo causa e conseguenza di tanti deviazionismi dottrinali. Perché per capire veramente le cose bisogna andare alle origini, alla Bibbia, al Nuovo Testamento, lasciando da parte tradizioni e filosofie e quant'altro e chiedere al Signore di darci la luce del suo spirito. Prima premessa, da un esame anche superficiale del Nuovo Testamento e della storia della Chiesa, si nota subito che la Chiesa Cattolica ha costruito il suo castello teologico del Magistero di Pietro e del Papato a posteriori. In parole povere, la Chiesa ha fatto come molti arricchiti che per essere accettati in società vanno alla ricerca dei quarti di nobiltà. Premessa numero due Nel Nuovo Testamento, cari amici, non c'è traccia di un potere centrale della Chiesa né retto da Pietro né da nessun altro. Non ce n'era bisogno e non ce n'è bisogno. Gesù non organizzò la sua Chiesa. Ripeto, Gesù non organizzò la sua Chiesa. Fu la Chiesa apostolica a darsi un'organizzazione semplice per facilitare il lavoro pastorale e evangelistico. La figura che riempie gli atti degli Apostoli e le epistole è Paolo, non Pietro. Paolo, non Pietro. Premessa numero tre La pietra nell'Antico e nel Nuovo Testamento è Cristo. pietra che è stata disprezzata dai costruttori ma che è diventata la pietra angolare la base il fondamento della Chiesa Salmo 118 22 Atti 4 Atti 4 Efesini 2 20 È assurdo far dire a Cristo di avere edificato la sua Chiesa su un uomo Pietro al quale subito dopo dice Vattene via da me Satana Tu mi sei di scandalo Tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini Vattene lontano da me Satana Tu mi sei di scandalo perché pensi come gli uomini non come Dio Adesso riprendiamo l'esame del nostro testo Gesù non dice a Pietro attenzione non dice Tu sei Pietro e su questo Pietro edificherò la mia Chiesa ma dice su questa pietra edificherò la mia Chiesa Sottinteso Tu sei Pietro un uomo un frammento di roccia un sasso infatti Pietro vuol dire una pietruzza un sasso Tu sei solo un uomo anche se aiutato dal Padre a confessare il Cristo e il Figlio di Dio e su questa pietra che sono io edificherò la mia Chiesa Chiesa che le potenze delle tenebre cioè il male Satana non potranno mai vincere e questa notizia è consolante per tutti coloro che pensano che il Signore abbia perso il controllo della situazione no il controllo della situazione della sua Chiesa è saldamente nelle sue mani tu sei Pietro e su questa pietra cioè su di me questa pietra che tu hai confessato che io sono edificherò la mia Chiesa la Chiesa è edificata su Cristo Figlio di Dio non su un uomo la pietra le chiavi il legare e sciogliere sono delle metafore che vanno al di là del senso materiale delle parole bisogna un po' mettersi con la mente al tempo dei discepoli quando udirono queste parole che per loro erano molto comprensibili per noi molto meno le stesse parole del legare e sciogliere Gesù le rivolge più tardi a tutta la comunità dei credenti cioè a tutta la Chiesa Matteo 18,18 nessuno cari amici nega un ruolo importante di Pietro nella Chiesa Apostolica nessuno lo nega infatti il Signore incarica Pietro di aprire la porta della salvezza ai gentili cioè ai non ebrei evangelizzando Cornelio il centurione romano che si converte a Cristo con tutti i suoi atti capitolo 10 ma farlo Papa con poteri sovrani e farlo addirittura portinaio del paradiso con tanto di chiave in mano non è solo un'interpretazione antistorica ma un'interpretazione volutamente grossolana a Grazie a tutti.